Il 16 marzo la Repubblica di San Marino ha visto la prima reggenza completamente al femminile della propria storia, formata da Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio. Mimma Zavoli, di 54 anni e originaria di Sant'Arcangelo, è consigliere del Movimento Civico X ed è entrata per la prima volta in Consiglio Grande e Generale con le elezioni del 2012. Vanessa D'Ambrosio, consigliere SSD, ha invece 28 anni ed è la sua prima legislatura. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Valloni dove i capitani reggenti eletti, dopo aver ascoltato le parole del nunzio apostolico, hanno pronunciato il loro primo discorso ufficiale ed hanno ricevuto il saluto dei nove capitani di castello. Il corteo si è poi spostato in Basilica per la cerimonia religiosa, preseduta dal vescovo di San Marino a Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi. Il vescovo ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa elezione tutta al femminile ed ha augurato loro buon lavoro. I capitani Zavoli ed Ambrosio sono infine tornati al Palazzo Pubblico per il discorso dell'oratore ufficiale, Giorgio William Vella, a seguito del quale hanno effettuato il giuramento ed occupato ufficialmente gli scranni regenziali, visibilmente commosse durante l'inno nazionale della Repubblica.